Sono quattro gli operatori OSS che svolgeranno attività di assistenza agli alunni disabili degli istituti Nisseni. Il bando prevedeva l'inserimento di sei operatori, solo quattro o tre partecipanti possedevano i requisiti previsti. Oltre alla qualifica di operatore sociosanitario, era necessario avere maturato esperienza documentata nell'assistenza agli alunni disabili all'interno degli istituti scolastici, enti, associazioni o cooperative sociali. I quattro operatori presteranno la propria attività negli istituti scolastici statali della città Nisseni con interventi di assistenza integrativa individuati dai dirigenti scolastici e riguardanti gli alunni disabili gravi dando un'assistenza particolare che non rientra tra le competenze del personale ATA addetto al servizio di assistenza igienico personale. Un intervento sperimentale questo che nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 svolgerà le attività aggiuntive e migliorative a vantaggio e a supporto degli alunni con disabilità delle scuole di infanzia primaria e secondaria di primo grado della città nissena come da deliberazione della giunta comunale 109 del 28 settembre scorso.